E' possibile partendo da una critica coraggiosa e forte del funzionamento delle attuali strutture. Strutture che hanno finito per creare un'Europa della grande finanza speculativa, un'Europa dei mercati, infrangendo, rompendo il sogno dell'Europa dei popoli e dell'Europa dei cittadini. Bisogna avere il realismo di guardarsi attorno, di mettere in discussione i meccanismi che hanno fatto sì che tanti cittadini adesso siano ostili anche solo all'idea di Europa e rimettere al centro invece valori come la solidarietà, la giustizia, l'equità ed una vera convivenza pacifica e ormoniosa fra i popoli europei. Parlare di, in un qualche modo, ideologia o colore politico in Europa fa parte della storia d'Europa, del come è nata l'idea stessa dell'Europa. Quindi è chiaro che quando si parla di Europa si parla inevitabilmente anche dei diversi approcci, delle diverse idee che si confrontano in questo panorama. Credo però che per avere una vera Europa dei cittadini, una vera Europa dei popoli e dei paesi membri sia necessario compiere uno sforzo e in un qualche modo superare l'ideologia mettendo al centro, quindi noi diciamo in Italia buttando il cuore oltre lo stapolo e quindi mettendo al centro quello che è il valore che un'Europa reale, vera, che appartenga ai cittadini può dare al di là della politica, al di là dei governi. È necessario riformare profondamente questa Europa, è necessario dotarla di strutture che mettano al centro la necessità di una piena occupazione, di una solidarietà sociale che metta al centro la possibilità per tutti i paesi membri europei finalmente di convivere in una zona omogenea dal punto di vista delle garanzie, delle tutele dei diritti sociali, del lavoro, dell'occupazione e di conseguenza in una parola sola del benessere europeo.